Musica 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 Si grazie Se vuole fare un comunicato per i terrenomesi Ci dà auguri a tutti i terrenomesi Non siamo venuti e c'è stato un blitz da me Non ho pensato io Andiamo a trovare al sindaco e gli diamo gli amici No io ho fatto un comunicato Faccio il amore a tutti i terrenomesi Un buon Natale, un sereno Natale Così come lo stiamo vedendo noi in famiglia Nella massima serenità Allora io da parte di tutti i terrenomesi Facciamo altro che rinnovare l'agurio di un buon Natale Di un buon figlio e di un buon principio E l'agurio che Gesù La possa proteggere la Madonna nostra Tutti i Santi Che fa un ottimo lavoro per i terrenomesi Ci vorrà tempo Sappiamo Cioè Taurianova deve stare calma Dobbiamo dare a questo uomo Il tempo per intervenire Giusto? Grazie Vai con l'Atalantella Vai Facciamo un blitz assieme Grazie 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 a tutti. 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 Siamo andati a chiedere a tuo fratello di Alparo, perché lui diceva che abitabili, dove abitabili? E tu dove abitabili? E' in piedi anche di chi? E' in piedi anche di chi? Mi abbia d'olastropa. Voglia bene, mi chiamiamo? E' da... Accomodatevi, prendete un poco di panettone, qualcosa. Posso? buon natale che bevi tu che ti possiamo offrire auguri panettone grazie Marisa ho mangiato un pezzetto come si è accettato? non mangio un pezzetto come si è accettato? un mignone ci ha colto di sorpresa ma veramente ci affacciai con la scorsa al meglio e ho questo che guardavano Dan in te ah beh li facevo sempre specialmente diciamo gli sposini gli facevo le serenate gli davavamo pieni sopra allora noi chiudiamo tu adesso diventi lato il cinema vicino facciamo la sensazione però scendiamo all'esterno bene così questo pezzettino lo mandiamo proprio mettendo di là così poi ce ne andiamo vediamo il disturbo qua grazie a tutti 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 al sindaco rinnoviamo un buon lavoro che sia veramente che Taurinova possa veramente una volta per tutti essere la grande Taurinova di una volta allora Taurinova diamoci tempo a questo ballantò di poter operare, tempo e pazienza e umiltà grazie 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 grazie